Monica Straniero della Voce di New York, siamo qui con Ciro De Caro, regista del film Taxi con Amore in concorso delle giornate degli autori. Ci puoi descrivere l'idea del film? L'idea del film è quella di un incontro, un incontro che è una cosa che a me fa un po' impazzire, nel senso quando vedo due persone che arrivano da due posti diversi dell'Italia, del mondo, inizio a pensare a tutte quelle piccole coincidenze che sono dovute accadere nella loro vita per far sì che poi, dopo 30 anni, 20 anni dalla loro nascita, le fanno incontrare in un preciso punto, in un preciso momento. E questa cosa mi spaventa anche, perché vorrei non aver incontrato io molte persone. Invece queste due protagoniste fortunatamente si incontrano e l'idea era proprio quella di raccontare qualcosa di inaspettato e di un incontro dove c'è qualcosa che non avviene tra loro due. e mi piace raccontare gli incontri in cui le persone non hanno il coraggio, forse, di fare quella cosa, di dirsi quella cosa e poi probabilmente perdono l'occasione, si separano per sempre e non si vedranno mai più. Anche se poi nel loro incontro qualcosa le fa cambiare, però mi piace immaginare che avranno un piccolo rimorso che sarà qualcosa di molto bello anche nella loro vita per non aver fatto accadere qualcosa. Ma l'hai trovato anche un po' necessario in un'epoca in cui con i social network è molto difficile la spontaneità appunto negli incontri? No, grazie perché mi permetti di dire che, diciamo, non ci sono tanti telefoni nel film, no? Non ci sono tanti, non stanno a presto, perché secondo me l'idea che siamo sempre connessi e sempre in contatto ci distrae dal fatto che in realtà non siamo più connessi, siamo lontani. E invece l'incontro tra queste due donne è reale, non si sono conosciute su Facebook, non si sono conosciute in maniera così telematica, ma si sono conosciute per strada. Ed è un incontro più vero. Nel film di Semi, nel film di scenette, che conferma la tua preferenza per i piccoli dettagli della vita quotidiana, questa tua attenzione come si inserisce invece in un'industria che ha una preferenza verso, o che vuole, grande storie di vita? Non lo so come si inserisce. Io come autore credo di avere il dovere di portare avanti la mia visione di cinema, che è quella, lo so, io sono cresciuto con i film francesi, ho cresciuto con i film di Romer, dove apparentemente non accade niente. Il cinema ha il dovere anche di raccontare piccole cose, cose di vita quotidiana, fatte relli, e tenere i grandi temi sullo sfondo, perché secondo me, con la leggerezza, senza dire le cose, senza raccontarle in maniera spudorata, melodrammatica, senza mettere, senza raccontarle, dico una cosa per iscritto, sottolineate, questa leggerezza permette a qualcosa di più importante di venire meglio fuori, con più potenza e con più sincerità. Grazie, ringraziamo Ciro De Caro e alla prossima. Grazie, mi dispiace.